Ciao a tutti, in questa breve recensione audio voglio raccontare la mia esperienza che ho avuto nel passaggio da Alice a 15 megabit alla fibra ottica di Telecom allora, come potete vedere dalle immagini, quando ero con Telecom Italia con Alice a 14 megabit, effettivamente io avevo un ping di 29 millisecondi in download facevo un po' di più di quanto ho dichiarato contrattualmente con 15,63 megabit al secondo e in upload un 0,84, quindi un po' meno di un megabit mentre, quando sono passato ad fibra ottica, la situazione è drasticamente cambiata oltre ad andare a spendere praticamente la metà e non avere alcun problema in termini di chiamate telefoniche sia da fisso a mobile che da fisso a fisso, essendo tutte a tariffa flat se non mi ricordo male, il contratto è a tariffa flat a zero sono passato poi ad avere in termini di prestazioni, come si vede dalle immagini un ping di 14 millisecondi e in download ottengo quasi 100 megabit e in upload intorno ai 20 megabit tant'è che io sono appassionato di pulp mugs in particolar modo di pdf e di amazing stories e una breve esperienza, vi posso raccontare che quando avevo Alice a 14 megabit per scaricare 10 anni di pdf mi scivoleva quasi 45 minuti erano tutti file piuttosto grandi intorno ai 180, 200, 300 megabit mentre invece con la fibra ottica ultimamente ho fatto la prova, ho scaricato 10 anni di pdf tutti su 200, 250 megabit e passa praticamente a file ci ho messo se no un quarto d'ora, al massimo 20 minuti conteggiando anche il tempo per rinominare i files quindi tempi morti per riordinare in modo cronologico le riviste io quindi con Telecom Italia mi trovo davvero molto bene e se avete sotto mano la possibilità di migrare da ADSL a fibra ottica sempre restando a Telecom io sinceramente vi consiglio di migrare e restare con Telecom grazie, ciao a tutti